Un avvio dal fascino indiscutibile. Il Teramo parte al Bonolis il prossimo 27 settembre contro una neopromossa che però tutto è, tranne che una matricola, il Palermo. Saranno in rosa-nero, reduci dal successo dell'Interregionale ad inaugurare la stagione della ripartenza vera del campionato di Serie C bianco-rosso. Squadra che punta subito al doppio salto e dunque avversario difficilissimo, in uno stadio quello di Piano Daccio che sarà certamente ancora a porte chiuse. Così come lo sarà il San Nicola di Bari alla seconda perché è lì che il Teramo si recherà al turno numero due per un avvio al Cardiopalma. Terza giornata sarà il primo infrasettimanale il 7 ottobre con l'incognita. Certamente tra le mura amiche, ma quella Y dovrebbe rappresentare una tra Bisceglie e Foggia che hanno ancora dieci giorni di tempo per regolarizzare l'iscrizione dopo che il Consiglio federale le ha reinserite tra i professionisti. Tanti gli infrasettimanali per chiudere la stagione nei tempi previsti. Doppia trasferta a fine novembre tra la dodicesima e la tredicesima contro la Ternana Liberati e la Virtus Francavilla prima di un rush finale per il diavolo dal sapore molto campano. Turris, Cavese, la X e l'Avellino. Chiusura all'Enrico Rocchi il prossimo 17 gennaio contro la Viterbese dell'ex Agenore Maurizzi prima del girone di ritorno. Alla presentazione il presidente della Lega Pro Ghirelli è tornato sulla composizione di ieri dei gironi e sulle polemiche sollevate dal Teramo per essere stato inserito ancora a Meridione. Sono cinque anni, cinque campionati che si fa questo taglio da questo punto di vista. Ci sono stati altre società che capiscono la loro amarezza rispetto alla suddivisione. Penso il Teramo, penso la Viterbese, penso la Ternana. Però lì purtroppo c'è la latitudine e quindi quello è. Però lo voglio dire perché il lavoro che abbiamo fatto è la congiunzione di una serie di elementi molto semplici. Il fatto che non ci fosse un'indicazione maggioritaria rispetto a quale tipologia di girone ed era difficile andare ad un cambiamento. Ci siamo presi un impegno per il prossimo campionato di lavorare in modo tale da ragionarsi rispetto al format e alla suddivisione. So benissimo che con questo non faccio nessun elemento di togliere il malcontento che vi è, che è anche ragionevole in questa direzione. Però rispondo alla domanda. Il campo è l'unico che dà una valutazione. Vedremo anche nel girone C ci sono squadre di grande lignaggio e di grande storia dal punto di vista. Il vero problema è che questa serie C quest'anno è un campionato fortissimo complessivamente. Girone di ritorno che parte il 24 gennaio con la sfida al Barbera di Palermo. Chiusura della stagione regolare il prossimo 25 aprile.